Ciao da Revasud! Oggi prepariamo i finocchi fritti! Ma che buoni! Ed ecco gli ingredienti! Ci serviranno tre finocchi, farine 00, pangrattato, parmigiano grattugiato, due uova, sale, pepe e un limone. Per iniziare puliamo i finocchi. E mondiamo i finocchi! Eliminiamo l'estremità inferiore. I ciuffi. E le foglie più dure. In una ciotola prepariamo l'acqua acidulata con un limone. Tagliamo il finocchio a fette spesse e le mettiamo nell'acqua acidulata. Vai con la prima. E con i pezzi laterali? Ci facciamo l'insalata stasera! È giusto! Abbiamo preparato una pentola con l'acqua. L'acqua bolle, saliamo e mettiamo i nostri finocchi che abbiamo tolto dall'acqua acidulata. Dopo 4 minuti spegniamo e li togliamo dall'acqua. Quindi bastano 4 minuti di cottura per sbollentarli. Mentre i finocchi intiepidiscono, prepariamo la panatura. Quindi abbiamo la farina 00, le due uova, ci mettiamo il sale, il pepe e sbattiamo leggermente. Nel pan grattato mettiamo 2 cucchiai di parmigiano piattugiato. Mescoliamo. Passiamo alla panatura. Quindi prendiamo la fetta di finocchio. La mettiamo nella farina. Infariniamo per bene. Nell'uovo. E poi nel pan grattato. Facciamo aderire bene. Prendiamo leggermente. Saranno buonissimi. E questo è il primo. Abbiamo preparato una padella con olio di semi per friggere e un piatto con carta assorbente. Stiamo friggendo! Guardate che bontà ci aspettano! Daniela, li vuoi già assaggiare? Sì! Si girano. Quando sono belli dorati, li togliamo dall'olio e li mettiamo a scolare su carta assorbente. E sono pronti! Ecco i nostri finocchi fritti! Buonissimi! E adesso, l'altro passaggio! Non scappare! Fantastico! Assaggiamo insieme! Io ti aspetto, tu no! E vedete il fumo! E' buonissimo! Fantastico! E qui termina il nostro video! Ciao da Doval Sud! Ciao da Daniele e Daniela! E se fate le nostre ricette? Fatecele vedere! Pubblicate le foto nei commenti sotto i nostri video! Ciao! E poi c'è lei, la nostra mascotte! Ed eccola qui! La pecorella di Doval Sud ha gradito il finocchio fritto!